ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei carlitos io sono il pazza e quest'oggi come vi avevamo anticipato sul telegram arriva questo video questo video parla di una prova una prova rally che abbiamo fatto io e Lex sapete quanto ci possa piacere la guida su strada questa volta abbiamo fatto in vita reale non mi resta che lasciarvi il video quello parla da solo vi rimando ai commenti l'iscrizione al canale passate anche dalla pagina di facebook e ci rivediamo con il prossimo video buona visione a tagliare la marcia tentativo numero 2 esatto vediamo se riusciamo a partire se riusciamo a non far voli qua da un po' guarda un po' guarda in me l'hai insalita me la mettevano qua ero un po' più felice dopo a partire col freno gli 보이는 cominciamo a far fare che farà Accomorice perché i traここ anche nessuno dietro basta stiamo in fondo a sinistra poi su della salita tornante a destra poi su della salita tornante a sinistra poi su della salita tornante a destra dimmene quando ci siamo però va tutto il cappino lì non so, palla per il proprio vai oh, buono dimmi uno spazio con il ruolo in pan qua l'ho perso prima e l'ho tenuto stupendo no, non è questo no, che ne è un altro dopo ho un vestito e l'ho Questa è la fronte, l'ai faccio tornare a te Questa è la fronte, la spazia si ha sfattuto Non è lungo, non c'è l'Aps Questa è la fronte 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 Trattata è larga Vedo un Cazzo qua Poi health Puoi metto Questa è lo largo freddo C'è un minuto di gare Eh A te A te Ma c'è qualcosa di stronzo Non hai fatto cosa Come sta? Hai visto il cassetto Pazzesco Era quella lì con la stronza Balla stronza Questo è strettissimo Ah che dove sto? Ah che dove sto? Ah 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 caldo io posso e prende quando c'è è finita, è finita 10 minuti fa caldo, pazza, caldo aria fresca di montagna grazie a tutti